37 nuovi casi di covid oggi in Abruzzo. Pochi però i test processati ieri. 1.384 i tamponi molecolari e 669 test antigenici per un tasso di positività complessivo dell'1,8%. Il più giovane tra i contagiati ha due anni, il più anziano ne ha 79. La provincia con il maggiore incremento di casi è quella di Pescara, ne sono 19. 16 sono invece i casi in provincia di Chieti, 7 quelli nell'Aquilano e 0 nel Teramano. Il bilancio dei pazienti deceduti registra tre nuovi casi e sale a 2.415. Del totale odierno un caso fa riferimento a un decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalle ASL. Considerando anche i 155 guariti, attualmente i positivi accertati in Abruzzo sono 8.612, 121 in meno rispetto a ieri. Torna a salire il numero degli ospedalizzati. 360 pazienti, 5 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica, mentre 34, 3 in più rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva. Gli altri 8.218 positivi accertati, 129 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL.